Il giorno e la storia. Oggi è il 25 dicembre. 1977. Quattro anni dopo la guerra del Kipur, Begin e Sadat si incontrano al Cairo. 800. Leone III incorona Carlo Magno imperatore. 1996. Stretto di Sicilia. Affonda una nave con oltre 400 migranti. Commenta il fatto del giorno Antonio Rizzolo, direttore di Famiglia Cristiana. Oggi celebriamo la nascita di Gesù. Auguri di Buon Natale a tutti.